Ehi, non ti voltare. Dietro a te c'è uno che ha ordinato una birra, quando ha visto che l'abbiamo presa noi. Grazie dell'informazione, io mi volto. Buon appetito a lei. Grazie. Scusi, ma lei pasteggia spesso a birra. Ma che? Ma ho visto lei e mi è venuta la voglia. Chissà perché non ci pensavo. E come niente domani fai il bis. Certo, da domani si replica. Anche perché l'appetito dell'inverno chiama la birra. Meditate, gente. Meditate. Birra. E sai cosa bevi. E sai cosa bevi.